Salve a tutti, sono Alex, il biondo, benvenuti in un nuovo video. Allora, oggi è martedì e ragazzi stiamo andando, diciamo, a una piccola gita a Bovino, in provincia di Foggia, per andare, io faccio parte dell'orchestra della Bosco Lucarelli, e stiamo andando a Bovino, appunto, per fare un concerto. Allora, lì, ora, noi partiamo, sono tipo le sette, e niente ragazzi, ho deciso di fare un piccolo vlog. Niente ragazzi, ora stiamo andando a scuola, dove prendiamo il pullman. Beh ragazzi, ora ci vediamo sul pullman. Ok ragazzi, siamo arrivati, ancora non c'è nessuno, questa è la mia scuola, quindi aspetteremo qua. Ecco qua, questa è la mia famosa scuola, la Bosco Lucarelli. Ok ragazzi, oggi stiamo con... Alessio. Allora, Alessio, sei emozionato per questa gita? Non tanto, un po' sì, però giusto perché comunque vado in un'altra parte a suonare, non proprio nella scuola, però... E secondo te, arriveremo primi? Può essere. Speriamo. Ragazzi, è arrivato il pullman, oggi saura e Filippo, saluta Filippo. Ciao ragazzi. Ecco qua, ora partiamo. Ragazzi, ok, possiamo partire? Ecco qua. Ragazzi, prima di suonare, mangio un po' perché comunque il viaggio è lungo. Abbiamo fatto, ragazzi, mamma mia, abbiamo spaccato di brutto. Ora aspettiamo e... E niente, speriamo che abbiamo vinto. Mi devo lasciare. Anche qua al teatro, Scerpa del Benevento. Ma al teatro, Scerpa del Benevento. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Non so se usciamo, quindi non lo so. Ok ragazzi, stiamo camminando qua per il paese. Ciao a tutti. 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 Ciao a tutti.